Io dopo la guerra, allora, qua a Savona abbiamo fatto una cooperativa autotrasporti partigiani di Savona. Gli americani e gli inglesi ci hanno dato tutte le macchine che c'era qua in giro, della Repubblica, dei San Marchio, no? Allora ci hanno dato, mi ricordo, 626, 2-3 Rho, un Sauré, un Berlier francese e abbiamo fatto una cooperativa partigiani al Porto, eravamo nella garreria del Garbasso e lì poi al Porto lavoravo a portare cellulosa, tutto, poi dopo 4-5 anni è finita, i soldi se li mangiavano quelli all'ufficio e non ce n'era mai e noi dovevamo andare per il mondo, io a Napoli ci avevamo fatto 20 viaggi e allora noi abbiamo deciso di andarsene e c'era il bracco da fare, bisogna andare a specie 8 ore ci mettevamo, carichi eh? perché lì è tutta salita, è discesa, non puoi mica… Io e uno di San Giovanni persi 100, 600, che abbiamo sempre viaggiato di coppia, ce ne siamo presi uno, Cameriborchio, e quei conti che abbiamo fatto dovevano darci 600, 600 e allora erano soldi, noi in due mesi ce li abbiamo andati adotta e siamo arrivati noi due, poi dopo 2-3 anni è venuto il secondo mio fratello che ha avuto la patente e io ci ho detto a Sacenti, te lo prendi te, questo qua me lo prendo io, io c'ho mio fratello e lì bisogna cercare l'aiuto e dice no no tienilo pure te, tanto io me ne guardo al mio paese, è venuto il mio fratello, uno, poi è venuto l'altro fratello, insomma che ce ne avevo 6, avevo 15 semirimorchi, adesso tutti e 4 fratello siamo in pensione, però c'è 3 nipoti, Scania sai Scania è il miglior camion che c'è adesso, pensa che una volta io e mio fratello Angelo di sabato mattina siamo venuti in via Sorbana, c'era Cleto, uno che riparava i camion e abbiamo aggiunto un foglio di palestra a rimorchio, quando vado via, ero alle 11, ci dice mio fratello va al porto che io vengo con la Vespa e poi andiamo a casa, arrivo lì davanti alle Tarside e c'è un guardiano che era di Sasselo, mi fermo, Nino ferma, ferma e gli dico su che è, mi dice mio che hai da caricare per Bagnoli, ma ti vedi e ti carichi subito, per l'inguito scici, vado la chiamo mio fratello viene indietro, carichiamo, adesso il giorno erano carichi, andavamo a Bagnoli alle Tarside, a Napoli, a lunedì siamo partiti, a lunedì e mezza di sabato, siamo arrivati a Bagnoli lunedì mattina, abbiamo scaricato, andiamo a Napoli, c'era uno di Genova, un'agenzia, vado portato il cambio laggiù, dalla Fiat che c'era al posteggio, pagavi eh, e poi venite qua, dice spero sarà difficile questa settimana qua, per la Tettania non c'è niente, e ci dico va bene allora andiamo la dal cambio, facciamo qualche cosa, andiamo la, dopo 10 minuti arriva dice c'è da caricare 300 quintali di fave per Bari, per Molfetta che è vicino a Bari, pagamento, scaricatevi e pagano, perché se non, io se non mi pagavano a destino non ci andavo eh, di fatto abbiamo caricato, abbiamo scaricato altri soldi, allora abbiamo finito scaricato il telefono a questo qua, dice c'è da caricare, laggiù non ce n'è marmo, ma c'è una pietra per Trieste, pagamento a Trieste, era di venerdì, abbiamo caricato e siamo partiti subito dopo pranzo, siamo andati a Trieste, siamo a Trieste, scarichiamo, prendo i soldi, telefonano alla Cite, la Cite è una ditta grossa di trasporti no, una censia, lì mi dice c'è da caricare non per Genova, nemmeno per Savona, c'è da caricare per Gugliasco Torino, dove facevano i cuscinetti, dice c'è da caricare lì dei travi di ferro, ma vi caricano sabato mattina, e va bene, abbiamo staccato i riborchi, siamo andati sui confini a vedere un po', e poi a sabato mattina abbiamo caricato, abbiamo caricato e siamo, puoi capire, travi che erano 10 quintali, 15 l'uno, 10 minuti, abbiamo caricato, siamo partiti, siamo arrivati a Gugliasco che era alle 11 di sera, di sabato sera, arriviamo la c'è il guardiano, fa, adesso non c'è nessuno per scaricare, e dico beh, abbiamo caricato adesso, oggi, stamattina la, non potevamo mica arrivare qua, e siamo usciti, siamo andati lì fuori, mio fratello è una settimana che non viene fidanzata, ma io voglio sentire, basta che viene egruista, se ne impreghiamo noi, perché passavo il cavo così, telefono al direttore, il telefono al direttore ci dice, si, si, chiamare il gruista che viene a San Angelo, e ci ho dato 10 mila lire, sai, mi rimane, sai cosa vuol dire scaricare ancora al sabato? Era una settimana che non si levavano i pantaloni, siamo venuti a Nissa a Monferrato, a caricare di sabbia, arrivo la, siamo messi lì fuori, al mattino passa una donna, portava l'altra, mi fa, eh, guardate che domenica non viene nessuno, non lavoro la domenica, sabbia del Tanaro, però ci passo io, ce lo dico io che siete qua, è venuto quello lì, ci ha caricato, però la domenica non puoi viaggiare, quando siamo arrivati lì sulla barretta di Nissa, tra acqui lì, arriva la polsia, ci ferma, mi fa, ma non potete viaggiare la domenica, lo sai, bisogna che aspettate stasera le 10, e dico guarda è così, è così, è dal sabato che siamo partiti, non mi interessa, i libretti, ai libretti non te li do, e poi di qua con cosa vengo a prenderli, eh, trovi una macchina e vieni a prendermi, no, no, allora mi dice multa non ne faccio, però non andate via di qua, no, no, dopo mezz'ora passa uno con la macchina ci dico, l'hai visto la strada? Sì, erano giù che rientrava, allora girano dietro, vado giù, vado a passare da Castel Bogliolo, Castel Bogliolo è un paese che li sopranizza, poi con la strada lì si viene lì a Trabistagno, prima di arrivare a Bistagno, traversi la strada, vai dal fiume e vieni a Melasso, prima di Sassero, siamo arrivati a casa alle 11, adesso stava bene, poi avevamo lì, perché era la cellulosa ce n'era a quei tempi, guarda che se ho comprato tutti sti cammini, li ho comprati ma con delle cambiali e li ho pagati tutti e adesso ce n'è ancora tre, c'ho tre nipoti che lavorano lì al Porto.